Grazie a queste persone che sono andate su queste pareti hanno avuto il coraggio di guardare più in là quelle che erano probabilmente le loro possibilità in quel momento. Il materiale, gli odini, gli schiattoni, non c'è nulla. A me le griglie sono molto in Italia. E tira fuori qualche madonna al passare. Cioè allora in quel momento lì il tuo carattere si fa. La corda? Lava vivo. Mi saliva dalla calogna, io partivo da casa a piedi, passo dalla calogna, anche 10 spalle. La mongolfiera, la via dei ragni e la mongolfiera, la buonate e la costanza, la castagna alta, la via dei ragni e magna che me ne ricordo. Finché credo. Grazie. 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 Grazie.